Benvenuti nel cuore dell'Emilia, al cuore matto, riunio di uomini e donne e non potremmo che avere un bellissimo uomo qui, che ovviamente sappiamo già come si chiama senza chiederlo perché è venuto con il mitico cartellino di uomini e donne Stefano, buonasera Buonasera, buonasera a tutti Insomma, oltre a belle donne, anche a begli uomini e approfittiamo anche con Stefano per dire cosa ti ha spinto a venire a questo evento a questa discoteca, se hai trovato qualche amico e dici qualcosa Allora, intanto, finalmente ho conosciuto questo ragazzo, me ne parlavano tanto che è un bravo organizzatore Sì, ho trovato degli amici, vecchi amici, ho visto adesso Cristina che era un po' che non la vedevo, che è sempre meravigliosa Paolone, Paolo Marzotto, Max che ormai è diventato il mio carissimo amico Massimiliano Maccarone quindi gli fa un gran piacere trovare i vecchi amici che sono stati in studio con me qualche anno fa o anche prima Grazie, guarda, anche te, oltre a essere un bel ragazzo ci manifesti un'umiltà che ci piace e sicuramente ci troveremo per altri eventi Finiamo anche noi col motto Vai dove ti porta il cuore, ovviamente Cuore matto Grande Ciao